La pandemia ha messo a dura prova la sanità italiana non solo a causa degli effetti diretti ma anche per quelli indiretti come il forzato allentamento degli screening tumorali. Ogni regione in base ai propri mezzi ha provato a reggere ma gli arretrati sono stati inevitabili. Anche in Puglia dove l'attenuazione del problema delle liste d'attesa è tra le priorità del governo regionale. Se ne è parlato a Bari nella giornata mondiale sulla lotta al cancro nell'evento gli screening oncologici per un guadagno di salute promosso da Regione Puglia, Prevenzione Puglia e Asle Bari per presentare il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore alla cervice uterina. Approfittando dell'allentamento della morsa del covid stiamo cercando di riorganizzare le attività e le azioni per recuperare il terreno perso soprattutto durante gli anni del covid nell'ambito dell'attività di prevenzione. Abbiamo preparato un piano dettagliato che ha lo scopo di erogare quante più prestazioni possibili per raggiungere gli obiettivi LEA ma soprattutto per cercare di recuperare il terreno perso, per cercare di recuperare quantità di persone che non hanno ottenuto lo screening che possono oggi farlo ed eventualmente scoprire per tempo di avere qualche problema. Qual è il messaggio che lancia i pugliesi? Di rispondere alle nostre convocazioni, di recarsi nei punti nei quali si effettua screening perché questo ci consente di alleggerire anche le liste di attesa che in qualche modo sono, perdonate il termine, drogate da prenotazioni di soggetti che sono in fascia screening.